Sì, domenica inizia il campionato, sarà un campionato difficile sicuramente, con la prima partita la fermana che pare che sia una di quelle accreditate per vincere il campionato. Comunque noi abbiamo allestito sicuramente una buona squadra, ce la giocheremo a viso aperto con tutti, cercheremo di fare bene come il nostro costume, ormai da anni che facciamo cerchiamo di fare bene e cerchiamo di migliorarci ancora. Noi sappiamo di avere allestito, lo ripeto, sappiamo di avere allestito una buona squadra, ce la giocheremo sicuramente con tutti, vogliamo migliorarci, quindi se vogliamo migliorarci significa che vogliamo fare bene, l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, ci siamo stati praticamente per tutto il campionato, tranne l'ultimo mese poi dove abbiamo avuto un cedimento, se vogliamo fare meglio, vogliamo migliorarci significa che almeno puntiamo a fare i playoff.